Cari amici, benvenuti al TG Comico 5 in compagnia mia di Bombolo e di Lino Banfi. Presentatevi amici. I votacci vostra? Siete venuti a vedere il TG Comico di Beduino? Mo ve fate quattro risate? E in compagnia di Lino Banfi. Ci siamo di nuovo, nuovamente per il TG Comico 5. Mi raccomando, dopo condividete a tutti. Beh, mo, fatemi leggere che devo... Allora, arrestati oggi due ciechi che litigavano, non si potevano vedere. Lino, parla tu. E come dico io, non si potevano vedere? Un paio di occhiali non si potevano mettere. Beh, Bombolo, che dici tu? Te, te, sti ciecati? Che cacchio è uscito a farne casa? Stateve all'i casi vostre. Te, te. Vabbè, da, fatemi leggere un'altra. Una signora dal salumiere. Ciao Marco, fammi 500 grammi di cotto perché mezzo chilo mi sembra troppo. E il salumiere la guarda perplesso. Vabbè, Lino, commenta tu. Ma non ho capito. 500 grammi di prosciutto e mezzo chilo non è la stessa cosa. Boh, è proprio scimso questo. Leggiamo un'altra notizia. A scuola una maestra chiede all'allunno A cosa serve la panda? E l'allunno risponde Panda in giro, signora maestra. Bombolo. E ti credo che per la panda serve panda in giro. Che ti devo dire? Mi raccomando, dopo condividete sto TG che mi fa impazzire. Vabbè, leggiamo un'altra cosa. Due cd alla stazione, uno dice all'altro Sì, di Rom? E l'altro risponde No, sono di Bari. Lì no. Come? Due cd si trovano alla stazione, uno di Roma e l'altro di Bari. Io non ci capisco più un ghezzo qua. Madonna, in Gap non c'è una casa foto. Leggiamo un'altra notizia. Aspetta, fammi finire di leggere. La Puglia, come ben si sa, è una bella regione. Allora, vediamo i particolari. Allora, Margherita di Savoia, capitale del sale. Barletta, capitale dei pomodori. Andrea, capitale dell'olio. Altamura, capitale del pane. A guardarla meglio, sembra vedere una fettina di pane condito. Bombolo. E ti credo. Cioè, se puoi mangiare una fettina di pane condito. Non dico di no. Con magari un bicchiere di vino, mi riempio i gargarozzi e faccio pure l'usignolte. Lino. Aspetta, bambolo, fai parlare lì. Madonna, benedetta. È una fettina di pane condito ogni tempo. A me è una fettina, non c'è. C'è una fettina, c'è lo stomaco vuoto. Madonna. Vabbè, leggiamo un'altra notizia. Lezione di storia. Una prof chiede all'allunno. Gianni, dove si trova la Macedonia? L'allunno, nel frigorifero, signora maestra. Bambolo. È la fettina di prosciutto e di pane condito. Non me la vuoi darmi. Vuoi darmi un bicchierino di Macedonia? Che mi sciacca un po' la bocca? Vabbè, aspetta. Tu, la fettina di pane mortale è la Macedonia. Vuoi mangiare? Aspetta un po', fammi finire. Dopo andiamo a mangiare. È stato scoperto il colmo per un veterinario e precisamente avere una febbre da cavallo, una fame da lupo, il collo del cigno e la voce di uno signolo. Che dite voi? Ma è un veterinario questo? Che dici? Fa lo signolo, il lupo, il cavallo. Se ci fosse un cavallo ci andiamo a fare un giro. Mi sono rotto lì, coglione, sta qui. Vediamo cosa dice lì, lì no? Madonna! E questo qua, se vuoi andare a fare un giro, è venuto a Bambolo per mangiare. La fettina di pane con lì, la Macedonia a fare il giro a cavallo. State un po' qui che vi sentiamo il telegiornale dopo. Magari dopo condividete su tutti i contenti Whatsapp, mi raccomando, se lo vi spezzo la nuova a capocollo, vi mettete la colla. Vabbè, leggiamo un'altra notizia. L'uomo cade dal sesto piano, si salva aggrappandosi al cilio del marciapiede. No. Bambolo. E quant'è scemo il bovino, sto fesso. Se butta dal sesto piano e si aggrappa al cilio del marciapiede, potevi appendere al palo della corrente. Immortacci tua. Leggiamo un'altra notizia. Avvigevano una donna, si lancia dal settimo piano e rimane illesa. Aveva l'assorbente con le ali. Lino. Madonna, questo mi fa proprio ridere. Quello aveva l'assorbente con le ali e non si è fatto un ghecchio. Madonna, benedetto. Meglio così, meglio così. Leggiamo un'altra notizia. È stato scoperto il vero peso di Gigliolo a 5 etti. È precisamente 5 etti uguale a 500 grammi. Bambolo. E ci siamo un'altra volta qui. 500 grammi e 5 etti. Sempre là, Simo. Siete proprio scemi se non avete capito. Vabbè, leggiamo l'ultima notizia che poi trovate le copertine, i quaderni e i libri. Gli allunni si sono giustificati dicendo siamo a dicembre, fa troppo freddo. Io chiudo qui. Condividete. Un saluto da parte dell'inobanfia di Bambolo e da parte mia alla prossima puntata. Ciao.